Lo sapevi che l'area di lavoro di Power Query può essere zoomata oppure dezoomata? No! Ecco un semplice trucco per fare questa operazione. Praticamente dalla nostra tastiera andiamo a premere il tasto CTRL più maiuscola e poi il tasto più che troviamo qui vicino al tasto invio piuttosto che sul tasterino numerico sulla destra. Vedete che quando clicco il più vado ad effettuare un bellissimo zoom. Se invece clicco il tasto meno vado a dezoomare l'area. Vedete che praticamente la barra degli strumenti non cambia dimensioni. Per poter cambiare anche questa dobbiamo cambiare praticamente la dimensione del layout generale di Windows. Come faccio a fare questa operazione? Un bel clic destro sullo schermo, impostazioni schermo e qui andiamo a giocare con il ridimensionamento globale di tutto Windows. Quindi se mettiamo a 150 otterremo uno zoom del 150% su tutti gli strumenti che andiamo a visualizzare nel nostro desktop.